ben ritrovati come sempre vi raccomandiamo di iscrivervi al canale di attivare la campanellina di lasciarci un like se il video è stato di vostro gradimento una giornata incredibile ieri veramente per quanto riguarda il calcio mercato tanto è vero che la vorrei dividere in diverse parti perché altrimenti finirei per fare il classico minestrone buttando dentro tutto oggi vi voglio occupare in questo video di due ex ormai possiamo dire giocatori della juventus che stanno su due lati opposti uno è voi c'è chesni il nostro tech e l'altro è paolo divala ormai ex da diverso tempo ma che tutto sommato diciamo vanno un po come dicevo prima agli antipodi abbiamo un scesni che è stato salutato anche sui social con grande nostalgia e direi con grande affetto da parte dei tifosi bianconeri anch'io dedicato un post e ho usato poche parole proprio come era lui scesni non era una persona tanto espansiva ma le cose che dicevano che diceva erano estremamente efficaci incarnava un ermetismo calcistico un ermetismo di vita quando parlava era sempre efficace io di scesni ricordo due cose in particolar modo la concretezza non è stato un portiere ai livelli di buffon non c'è bisogno ovviamente del mio commento per sottolineare un'ovvietà ma è stato un portiere in pieno stile juventus un portiere silenzioso un portiere elegante un leader silenzioso un grande uomo è stato un portiere non sto parlando tecnicamente sto parlando caratterialmente se non immagino già poi commenti a dire ma come fai a paragonarlo quindi stiamo parlando di aspetti caratteriali non di aspetti tecnici un po ladino zoff un leader silenzioso ve lo ricordate zoff che leader che era io ritengo che zoff sia stato complessivamente considerando anche l'uomo considerando la persona il più grande portiere della storia bianconera poi se mi chiedete chi è il mio preferito lo sapete è stefano tacconi però vabbè lì sono debolezze individuali sono passioni individuali io stravedo per stefano e una volta spero di poter glielo dire anche di persona che io avrei comprato se ai tempi si potessero fare tutte le magliette colorate che metteva stefano durante le partite della juventus il rivoluzionario calcisticamente parlando per l'amor di dio non c'è nessuna non ci sono riferimenti particolari laddove il portiere della juventus mettevano sempre queste magliette grigie tacconi arrivava con queste magliette colorate però un altro discorso se devo invece fare una valutazione un po quello che tante volte mi si accusa di dire ma tu devi essere io arrivato a tele lombardia anche questo così approfitto per chiarire una volta per tutte come opinionista di calcio ok quindi un conto è il tifoso non ho mai negato né mai negherò la mia passione così come su questo canale e il mio tifo bianconero un conto è fare l'opinionista il canale stesso non è un canale bianconero poi sono felice di tutti i bianconeri che si scrivono è un canale sul calcio ok autoironico dall'allenatore del pallone il professore del pallone visto anche la collezione dei palloni che ho ok quindi autoironico e parla di calcio io vado in tv per parlare di calcio quindi devo cercare di essere obiettivo stessa cosa quindi se parliamo del mio portiere preferito è chiaramente stefano tacconi se devo fare una valutazione a 360 gradi è dino zoff così come e ritorno sul pezzo voi c'è scesni è stato un portiere un leader silenzioso proprio la dino zoff quindi ricordo in particolar modo dicevo prima due episodi il suo modo di essere ricordo una parata per esempio fatta in uno juventus roma che salvò risultato lui era un ex ricordiamo che allison il portiere strappagato del liverpool era la riserva di voi c'è scesni venne preso giocava nel roma ma era il cartellino dell'arsenal dall'arsenal non ha mai dato particolari problemi spesso un pararigori spesso un uomo che è stato essenziale per portare a casa delle partite vi ho citato quella con la roma ma posso citarne tantissime altre non sto qui a fare l'elenco non è non siamo in vena di amarcord e l'altra cosa che ricordo ancora che secondo me è ancora più significativa la sua grande eleganza e la sua grande correttezza nei confronti di questa sorta di guerra dei cent'anni a livello di allenatori della juventus sì perché è una guerra dei cent'anni perché ancora non è finita non più tardi di questa mattina ho dovuto cancellare un commento non qui ma su altri social di motta out palesemente si capisce dopo tre amichevoli come fai a dire motta out non ha alcun senso allora i tifosi del napoli dovrebbero dire conte out visto che ne ho 90 minuti non hanno battuto una compagine di serie b che almeno sulla carta non dovrebbe nemmeno lottare per la promozione no si guarda in maniera diversa se sia oggettivo in questa guerra dei cent'anni voce cesni stato corretto con tutti è stato un leader di allegri perché è stato molto vicino al tecnico livornese e i tifosi di allegri lo sanno perfettamente è stato corretto con andrea pirlo ed è stato l'unico e questo ovviamente io che sono solo in questa cosa ci metto sempre la faccia e non mi ne vergogno mai non me ne vergogno mai tifoso di maurizio sarri andare da sarri non solo per un abbraccio foro forma come hanno fatto altri in maniera estremamente fredda laddove sarri era stato lasciato da solo ma chiedendoli mister le posso portare una sigaretta che sappiamo che è il vizio di maurizio sarri vizio non fumate mi raccomando io sono un suo grande estimatore ma ovviamente non fumo e non vi consiglio mai di fumare queste sono parentesi però non è mai non è mai male dirlo visto che lo dico spesso anche a scuola ecco proprio andando a prendere diciamo così il vizio di sarri e rimanendo vicino anche al tecnico di figline valdarno questo non vuol dire essere un doppio giochista ci sono la differenza è molto sottile vuol dire essere una persona corretta una persona leale ci mancherà molto voi c'è c'è detto questo c'è da controaltare paolo di bala sì perché che cosa è successo su paolo di bala paolo di bala non fa più parte del progetto della roma la roma aveva messo una clausola rescissoria per cederlo nessuno la ne ha usufruito nessuno ha utilizzato questa clausola rescissoria ha avuto un'offerta milionaria dalla rabbia 100 milioni per di bala mi pare in quattro anni ma spero di non essere di non dire una sciocchezza di bala la rifiutata e vuole rimanere alla roma laddove nelle amichevoli la roma lo ha sempre messo in panchina dove chiaramente dei rossi gli ha palesato di essere fuori progetto ovviamente mi dispiace molto umanamente è una cosa che non può non dispiacermi però ecco come diceva un grande presentatore non di calcio ma del giornalismo rai la domanda nasce spontanea se o forse la risposta nasce spontanea tutti quelli che hanno sempre sostenuto io non ce l'ho mai avuta con di bala per l'amor di dio anzi un giocatore che ricordo con grande affetto e oserei dire anche con una velatissima nostalgia però quando ritorniamo al discorso dell'obiettività del pensiero mi hanno chiesto se di bala fosse un fuoriclasse io ho sempre risposto non è un fuoriclasse di bala è un ottimo giocatore è un giocatore molto discontinuo che ogni tanto a queste questi colpi di genio a questa classe infinita ma non dà continuità non dà certezze non è un leader e questo ovviamente non è più la domanda che nasce spontanea la risposta che nasce spontanea nemmeno nella roma che credo non me ne vogliono i tifosi giallorossi abbia ambizioni non da scudetto poi non si sa mai nel calcio per l'amor di dio ma da champions league nemmeno nella roma di bala è più ben accetto su questo bisogna assolutamente ragionare anche nei confronti di chi è stato massacrato il dottore arriva bene per degli errori che magari certamente ha fatto però evidentemente anche le uve non erano così sprovveduti come forse non sono stati così sprovveduti neanche per quanto riguarda il sostituto di scesi io l'avrei tenuto scesi insomma io ho dedicato un video quindi più di questo non so davvero che cosa potessi fare però adesso vi prego questo è un piccolo appello che faccio non prendetevela con di gregorio che non c'entra nulla è stato ingaggiato ovviamente e dovrà fare bene alla you lasciatelo lavorare lasciatelo tranquillo grazie grazie